Ammontano a 53 anni di carcere le richieste avanzate dall'accusa alla Corte del Tribunale di Locri nell'ambito dell'udienza per il processo scaturito dall'operazione Italia che lavora. La condanna più severa, 13 anni di reclusione, è stata chiesta per Antonio Nirta, classe 56. 11 anni è invece quanto avanzato per Sebastiano Nirta, classe 57 e 9 anni per Domenico Mammoriti. Per tutti gli altri le pene chieste dal PM Francesco Tedesco vanno dai 5 anni e 3 mesi ai 4 anni e 3 mesi. L'operazione Italia che lavora scattò il 4 febbraio del 2014 quando i carabinieri eseguirono la custodia cautelare emessa dal GIP Regino nei confronti di 11 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, illecita concorrenza volta al condizionamento degli apalti pubblici, frode nelle pubbliche forniture e furto di inerti con l'aggravante delle modalità mafiose. In particolare dal monitoraggio di 9 apalti pubblici banditi dal comune di San Luca, dalla provincia di Reggio Calabria e dalla regione Calabria per opere da eseguirsi a San Luca per un ammontare complessivo di 5,5 milioni di euro, secondo l'accusa, è emerso l'accaparramento grazie ad atti di concorrenza sleale volti al controllo o comunque al condizionamento della giudicazione della successiva esecuzione dei lavori. Gli indagati, secondo gli inquirenti, avevano stretto un accordo collusivo che mirava attraverso la predisposizione fraudolenta di offerte e attraverso rapporti di subappalto lecito o illecito dei lavori all'imposizione esterna della scelta delle ditte destinate ad aggiudicarsi gli appalti o comunque a eseguire di fatto i lavori. L'operazione Italia che lavora trae origine da un'indagine avviata nel 2005 dai carabinieri di San Luca in cui sono poi confluite le risultanze di altre inchieste come crimine, reale, saggezza e metano a San Luca. Il processo è stato aggiornato al 7 di ottobre.